Farmacia Portuense, aperta 24 ore non stop, anche domenica e festivi. Presso la Farmacia Portuense sono presenti diversi reparti per soddisfare il cliente in tutte le sue richieste. Potrete trovare anche farmaci omeopatici, veterinari e fitoterapici. Disponiamo inoltre di un vasto assortimento di prodotti per la prima infanzia, di dermocosmesi e di profumeria e di un'ampia scelta di alimenti senza glutine, freschi, secchi e surgelati, così come di alimenti a proteici e per diabetici. Operiamo con professionalità a 365 giorni l'anno, festivi compresi, avendo come obiettivo la salvaguardia della salute e la centralità della nostra clientela, offrendo una vasta gamma di servizi come forniture per case di cura ed ospedali, consegna a domicilio, servizi infermieristici, CUP, noleggio bilancio e bombole ossigeno, laboratorio galenico, autoanalisi del sangue e controllo pressorio. Sono sempre disponibili più di 2.000 prodotti in offerta scontati dal 10 al 50%. Venite a trovarci e sapremo ripagare la vostra fiducia.